Sì, ma guarda il canale del drammico. Sì, è l'unico. Alaska? Si avverava? Boh, Alaska hanno scritto. Spacca. Ti faresti fare cose da Jody per 10 milioni? Sì. Ti piacciono i piedi? No. Ti piacciono i miei piedi? I piedi di Mary ti piacciono? Dovrei vederli. Trisom dopo? No. Se hai mai fatto una ragazza venuta in live? Può essere successo. Ma hai venuto in live anche la tua ex. Ah, sì, sì, sì. Sei abbonato all'OliFans di Mary? No, lo guardo su Telegram. Bastardo. Dai, c'è proprio così. Però non è intero su Telegram, quindi abbonatevi se volete vederlo intero. Vabbè, te le faccio vedere comunque il telefono. Ah, sì. Ah, sì. Bella risposta. Ah, sì. Aia. Sotto male. Vorresti essere il miglior amico di Mary? Con due R. Il miglior amico di Mary? Essere il miglior amico di Mary, sì. Siamo già miglior amici. Fatti. Poeta preferito? Eugenio Montale. Mi hai fatto sessonale? No. Non i. Voto al fisico di Mary. Dieci. Mi hai eiaculato su Tarta? Il Drago Free Booter 2. Ti seguo. Bomba comunque. Grazie del support.